Musica Ecco con Anna Menghi e parliamo della sua associazione, l'ANNIC che ovviamente ricopre ruoli importanti, Presidente Provinciale e Commissaria Regionale, un impegno molto importante di cui ci parla la stessa Anna Menghi. Sì, veramente l'anno prossimo faranno 30 anni di impegno nell'Associazione Nazionale Muditi e Ati e Invalidi Civili e dopo tutti questi anni, dopo aver in passato ricoperto ruoli sia a livello nazionale che Presidente regionale, mi tocca per certi versi ricominciare da capo perché purtroppo sulla disabilità in Italia ancora dobbiamo fare molti passi avanti. Ecco, diciamo che quante associate avete qui a Macerata? Noi abbiamo iscritti diciamo 800, tesserati un po' meno perché noi siamo un'associazione di categoria e abbiamo la rappresentanza di tutti gli invalidi ai vari livelli, non solo per il riconoscimento dell'invalidità dove svolgiamo un ruolo di tutela e quindi di presenza all'interno delle commissioni mediche, ma ci occupiamo anche di tutte le questioni che riguardano la persona che ha una disabilità, un'invalidità civile, quindi mi riferisco al diritto al lavoro, mi riferisco a tutto quello che ruota intorno al mondo della persona disabile. Ecco, la nostra provincia ha sensibilità verso i disabili? Purtroppo è una situazione un po' che rispecchia quella nazionale, siamo a macchia di leopardo e cioè ci sono situazioni diciamo più positive ed altre meno, non c'è ancora, non abbiamo, non riusciamo ad avere una situazione uniforme, ormai insomma siamo nell'anno prossimo, nel 2020, facciamo parte di una Europa che ha sui diritti dei disabili, quando è nata il Nord Europa che ha fatto l'Europa, i disabili Nord europei lavoravano per la solidarietà di quelli africani, purtroppo noi questo gap ancora dobbiamo recuperarlo. Abbiamo situazioni, per esempio anche a Macerata, oggi è uscito un articolo sulla stampa, dove si denuncia ancora una volta una chiusura del centro storico che crea problemi di accessibilità a chi ha un diritto naturale, diciamo, di accedere perché purtroppo ha una disabilità. Quindi ecco, l'impegno è ancora tanto. Ecco, la Regione Marche ha un ruolo importante nella disabilità? Ma la Regione Marche diciamo che quest'anno ogni tanto, io dico simpaticamente che per fortuna ogni tanto ancora votiamo, e quindi la Regione Marche per esempio ha tolto un finanziamento che era per queste associazioni... Sono bravi? No, il Presidente in persona, il Presidente Cerecioli. Diciamo che la questione della Regione Marche è abbastanza difficile. Difficile significa che c'è stato un taglio di fondi, molti sono i problemi, le promesse sono state tante, ma in realtà di fatti ne abbiamo visti ben pochi. Adesso, per fortuna che siamo in prossimità delle elezioni, si sta facendo, è stata rifinanziata la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, la legge 13, ci stanno dando un contentino sulla legge per le associazioni che tutelano i disabili. Anche qui ci sono delle promesse, ma è stata finanziata per esempio i progetti di vita indipendente, ma non vediamo interventi strutturali che possano garantire e portare la Regione Marche ad alti livelli come dovrebbe o eravamo nel passato più verso il nord dell'Italia, ma il rischio che scivoliamo, e lo abbiamo visto anche sulla sanità, dove i disabili sono doppiamente svantaggiati, piuttosto verso il sud, con tutto il rispetto per il sud, ma su posizioni di retroguardia che noi chiaramente non condividiamo. Grazie